questa è veramente un pezzo raro poi ve lo dimostrerò perché la parola occasione a tante volte è molto infrazionata quando si vede un slk come questo del 2007 con 28 mila chilometri vuol dire che ha percorso meno di 5 mila chilometri all'anno tutto documentato da italiani Mercedes questa la puoi chiamare veramente occasione autovettura veramente meravigliosa non gli manca niente forse solo i capelli all'autista